Creare un ambiente di lavoro secondo il concetto dell'Activity Based Working significa dotare l'azienda innanzitutto di uno strumento che possa ridurre eventuali rischi di stress ma soprattutto che possa generare benessere andando quindi a scardinare un concetto ormai superato di spazio di lavoro con scrivanie predefinite quindi diciamo più statico per invece andare a prediligere un ambiente di lavoro più fluido, flessibile in cui ciascuno può scegliere dove lavorare a seconda delle attività da svolgere quindi ci saranno spazi più dedicati alla concentrazione, alla contemplazione, alla collaborazione, alla comunicazione le cosiddette 4C di Mayerson per cui è possibile magari lavorare in un phone booth piuttosto che in un tavolo collaborativo oppure inserire riunioni per incontri a due, a tre o che possano contenere un maggior numero di persone questo quindi sta a significare che gli ambienti di lavoro non sono più una residenza ma un'esperienza, luoghi ricchi di significato, spazi appunto di incontro, di confronto, di innovazione e di costruzione identitaria e di costruzione